Buonasera, Francesca Mencacci, La Nazione. Ma che cosa è successo al Perugia? Perché al di là di alcuni fattori, l'emergenza, sembra come se fosse cambiato qualcosa, insomma, magari anche nello spirito, nell'atteggiamento, non lo so. Bisogna vedere a cosa ci riferiamo. Se ci riferiamo dal momento del secondo tempo di oggi può essere che abbiamo fatto meno bene dell'altra partita. Per me, mercoledì, abbiamo fatto un'ottima partita, macchiata da un errore finale dove abbiamo preso un gol. Oggi, secondo la mia opinione da allenatore, un buon primo tempo, dove meritavamo di andare in vantaggio. Un secondo tempo più brutto, dove non siamo stati in grado di fare male a loro. Poi abbiamo preso un gol evitabile. Non credo che sia stato sbagliato l'atteggiamento. Sicuramente abbiamo fatto un secondo tempo non positivo. Mister, buonasera. Ancora una volta, la squadra che non riesce a tradurre importa le tante occasioni, perché il primo tempo, e per lui ce l'ha avuta le occasioni, le 3-4, pulite. Purtroppo, anche noi ragionavamo, quando poi non si segna minimo errore, si rischia di subire. È successo sempre in queste ultime partite, purtroppo. Per me il primo tempo è stato bello. Secondo me il primo tempo contro loro, per me abbiamo fatto un ottimo primo tempo. meritavamo di andare in vantaggio. Sotto il profilo del gioco, delle idee. Il secondo, meno. Ma bisogna... Io sono molto sincero, come sapete. In casa è un dato di fatto. Abbiamo fatto male. Avevamo recuperato con le ultime partite, però la vittoria sfuggita all'ultimi secondi mercoledì e la sconfitta di oggi fanno ritornare il bilancio in casa a un bilancio non positivo, sicuramente. E questo è un dato di fatto. E questo è sicuramente un dato di fatto. Però non parlerei di atteggiamento sbagliato. Qualche cosa qua in casa non funziona. Comunque anche oggi il risultato di... La sconfitta va oltre, oltre i meriti che almeno un pareggio questa squadra oggi se lo meritava per quello che ha messo dentro. Ministro Massimo Boccucci, Corriereo Sport. Ti chiedo, tornando su De Luca, no? La sensazione è che avesse in mano la partita per le occasioni che ha avuto, anche per aver lottato nel primo tempo. Però non so se da solo in attacco avverta troppo il peso della responsabilità, perché oggettivamente più di quelle opportunità è difficile che per un attaccante in casa possano capitare. Manuel ha fatto fino a oggi 30 partite, da quando è arrivato. Ha fatto un campionato importante, è arrivato infortunato. Siamo contenti di quello che ha fatto fino a oggi. È un ragazzo giovane, può darsi che il peso di alcune situazioni, ma noi siamo contenti di quello che ha fatto. Tra mercoledì e oggi gli sono capitato anche delle occasioni. Ma è un giocatore che dà tanto, che ha energia, che ci mette il cuore. Ha giocato il primo tempo da sole, ha fatto benissimo. Il secondo tempo, con Olivieri, perché è entrato all'ottavo, con le due punte, ha fatto meno bene. Bisogna anche guardarlo. Oggi, secondo me, la partita del primo tempo era perfetta, tatticamente. Perfetta. Non l'abbiamo concretizzato. Dispiace per quello. Però il giocatore è da apprezzare e ritornerà sicuramente a fare gol. Io ho tanta fiducia in lui e sono contento di quello che ha fatto. E non è certo per un gol sbagliato che io lo giudico, assolutamente. Buonasera, Ministero. Corrado, lo sito del messaggero. Due domande veloci. La prima, mi ricollego a quello che diceva prima. In casa, di fatto, il Perugia non vince da sei gare. Fra arbitraggi negativi, situazioni un po' particolari, è evidente che i problemi ci sono. Contro un avversario, tra l'altro, che è in grossa difficoltà oggi, perché erano sette partite che il Como non vinceva, non arrivava al risultato. Ecco, manca quella crescita, soprattutto in certe situazioni, nelle letture che lei si aspettava. Seconda domanda, mi ricollego alla domanda che ha fatto il collega Massimo Boccucci, del posizionamento, la scelta poi di togliere D'Urso e mettere due punte pure con Juan dietro. Non ha in qualche modo inciso poi di fatto negativamente? Allora, per quanto riguarda in casa, sono concordo. L'ho detto prima che è un bilancio non così, non positivo. potevamo fare qualche cosa di più. Anche se ci sono state, secondo me, prestazioni importanti, cioè col Benevento, con Lecce, quella di mercoledì, lo stesso primo tempo di oggi. Sinceramente, qualche punto in più diverso lo potevamo avere, però sicuramente è un bilancio che non mi soddisfa. e quindi la responsabilità è sicuramente mia non aver dato in casa qualche cosina di più. Per quanto riguarda questa, questa lettura, secondo me, dovuta anche alle esigenze, perché non avendo né Carretta né Matos, abbiamo fatto una gestione di partita diversa. Secondo tempo abbiamo optato per dare più profondità con le due punte, mettendo Marco subito al 7, all'ottavo minuto. Può essere che abbiamo trovato meno linee di passaggio, questo può essere, però abbiamo fatto per cercare di vincere la partita, per cercare di avere più peso là davanti, anche perché Manuel era da solo e reggere tutto il peso dell'attacco diventava difficile, era stata proprio studiata così. Anche Marco l'ha avuto in un paio di situazioni, due tiri dal limite, peccato, peccato, però non credo che sia quello il problema di oggi. Ministro Alessio Torzuoli da Ciperugia.com Senta, adesso viene la sosta, può essere questo periodo proficuo per innanzitutto recuperare gli infortunati e poi riprepararsi per la trasferta? Parliamoci chiaro, cioè abbiamo perso, dispiace, ma ci sono sette partite alla fine, non è finito niente, siamo a tre punti da un obiettivo che vogliamo raggiungere, ci sono sette partite importanti, ancora non è finito niente, abbiamo perso, male, dispiace, ci abbiamo messo del nostro oggi, mercoledì, ma siamo ancora lì e fino alla fine del campionato lotteremo per raggiungere l'obiettivo. chiaro e tondo, non esiste, ma ci siamo, lo dimostreremo ancora e ci saranno ancora delle partite che sono convinto la squadra regalerà delle soddisfazioni, assolutamente, su questo non ci piove e ancora è tutto in gioco per provare a raggiungere quell'obiettivo lì, ci sono 21 punti a disposizione, una cosa è certa, la categoria c'è e ora proviamo nelle prossime sette partite a riprenderci quello che abbiamo lasciato per colpa nostra nell'ultima partita. Ecco, io mi ricordo il discorso che ti volevo fare, è stata un'occasione persa, questa di oggi, ma quindi se la sente ancora di rilanciare, ha già risposto. Ci mancherebbe, ci mancherebbe, non mi sembra che la squadra abbia mai dato un segno, può darsi che alla fine era un po' stanca, perché tante partite, di alcune situazioni, ma la squadra sicuramente riprenderà, ha bisogno di recuperare un attimino e riprenderà il suo percorso e giocherà le prossime partite con la sua identità. Ancora non è finito niente, vogliamo provare a giocare per incentrare quell'obiettivo lì e ancora siamo in corsa per centrarlo, punto, siamo a tre punti, mi sembra, non lo so, quindi è tutto ancora in gioco e siamo ancora vivi, assolutamente e il Perugia ancora da dare. Mister, buonasera, Antonino Caravella, Asia, agenzia stampa Italia. Che cosa manca a questa squadra per fare veramente il salto di qualità? Viste le belle prestazioni, onestamente con la SPAL è raccolto molto poco. Oggi è un primo tempo sicuramente dove il Perugia meritava ampiamente di essere in vantaggio, poi ha subito possiamo dire quell'unico tiro a un porto alla parte del Como, quindi a questa squadra per raggiungere veramente per fare quel salto di qualità di che cosa ha bisogno? Abbiamo preso due tiri, uno alla fine del primo tempo su una verticale la Gomina e poi il secondo gli abbiamo concesso noi. Alla squadra manca qualche cosa manca da questo punto di vista ma è una neopromossa fino a mercoledì a tre minuti alla fine ma anche lo stesso risultato di mercoledì la squadra ha fatto un campionato positivo solo in casa ha lasciato qualche punto di troppo ma questa squadra ha dei margini di miglioramento che solo il lavoro solo il tempo la possano far diventare una squadra ancora migliore. Forse ci eravamo illusi non io che i risultati alcune vittorie fuori casa alcune prestazioni anche con squadra importanti potevano essere potevano colmare subito il gap che hai da certe squadre. Secondo me ancora abbiamo bisogno di fare dei miglioramenti prima di tutto in casa e ripeto lì tocca a me trovare la soluzione che fino a oggi sinceramente non è che sia che sia stata positiva però io ho ancora fiducia in sette partite di poter migliorare questa situazione. con di qui Grazie a tutti